C'è chi ha un'esperienza contenuta nei numeri e felice, chi ad oggi parla ancora di profughi come invasori, chi si trova tra la possibilità di ospitarli e la chiusura dei suoi cittadini. Ad oggi hanno risposto al progetto di accoglienza diffusa lanciato dalla comunità montana di Valle Camonica a nove comuni, tra cui esine ancora alla ricerca di locali idonei e vezza d'olio per ora senza strutture adatte. Quindi il Capodiponte e Breno per un massimo di 5 profughi, Sellero e Cerveno senza indicazioni di numeri, Pian Camuno per un tetto massimo di 10, Edolo per un massimo di 15 con il supporto della cooperativa Rosa Camuna ed Arfo Borio Terme che già contribuisce all'accoglienza con il supporto della Caritas. Pochi comuni se si considera che a Montecampione oggi ci sono 116 richiedenti asilo e che l'obiettivo del presidente Tomasi era svuotare il Residence Le Baite. Ossimo è tra quelli che non ha ancora comunicato la sua scelta ma che ha deciso di rompere la linea dell'informazione poco precisa e spesso asettica, invitando i suoi cittadini ad un'assemblea pubblica volta al confronto. Ossimo sta valutando la richiesta che viene dagli enti comprensoriali, sicuramente un tema delicato che va affrontato con le persone, con la gente di Ossimo per capire se possiamo fare una scelta del genere. In assemblea l'esperienza positiva di Malegno, precursore del progetto di accoglienza diffusa che da tempo ospita carico di Casa Giona in una casa privata 5 profughi. Casa Giona ha preso in affitto un appartamento a Malegno, ha collocato lì 5 persone. Il Comune non ha dovuto sborsare nemmeno un euro ad oggi. Le persone sono però ospitate in una struttura accogliente, proporzionata, perché sono soltanto in 5. Hanno supporto da parte dei volontari nell'insegnamento della lingua italiana, nello disbrigo delle pratiche burocratiche e nei prossimi giorni cominceranno anche a svolgere i lavori socialmente utili presso il Comune, proprio perché sono stati seguiti e accompagnati anche nella redazione della richiesta di asilo politico. A Ossimo non è mancata nemmeno l'esperienza di Carlo Cominelli, presidente della cooperativa K-Pax, che si occupa di richiedenti asilo politico, ma la decisione resta adatta da destinarsi.